Quello che state vedendo nelle immagini non è un film catastrofista hollywoodiano, ma come potrebbe presentarsi il centro di Pescara tra meno di un secolo. L'Abruzzo infatti è tra le sette nuove aree costiere italiane a rischio inondazione per l'innalzamento del mar Mediterraneo. Nella lista ci sono anche Puglia, Sicilia, Sardegna e Toscana. La previsione è stata fatta dagli esperti dell'Enea grazie a nuove misure sulla perdita di decine di chilometri quadrati di territorio dell'Italia entro fine secolo. Salgono così a una ventina in totale le aree costiere in pericolo a causa dei cambiamenti climatici e delle caratteristiche geologiche del paese. Secondo l'Enea che ha presentato oggi a Roma in un convegno dedicato ai cambiamenti climatici e all'innalzamento del Mediterraneo le nuove mappe del rischio allagamento, le nuove sette aree sono quelle di Pescara, Martinsicuro e la Foce del Tronto, Fossa Cesia, Lesina, Granelli, Valle d'Oria e Marina di Campo sull'isola d'Elba. Le altre aree già individuate riguardano invece quella compresa tra Trieste, Venezia e Ravenna, il Golfo di Taranto, Oristano e Cagliari ma anche la Versilia in Toscana, Fiumicino e Fondi nel Lazio e la zona dell'Agropontino mentre in Campania il rischio ricade sulla Piana di Sele e sul Volturno, in Sicilia invece sull'area di Catania e sulle isole Olie. L'allarme era già stato lanciato dall'Associazione Americana Climate Center che studia i cambiamenti climatici che ha realizzato uno strumento in grado di dimostrare gli effetti del riscaldamento e dell'innalzamento del livello del mare.